Monia ha deciso di prendere le distanze da Josh, pubblicando un lungo post sui social in cui condanna i comportamenti violenti del suo ex compagno Questa scelta ha ricevuto molti apprezzamenti, tra cui quello di un'altra concorrente del grande fratello Fiordaliso, zia Fiorda per i gieffini, ha elogiato Monia per aver lasciato Josh, facendo un chiaro riferimento al tatuaggio di coppia che i due avevano fatto Monia ha cancellato tutte le foto con Josh dai suoi profili social, dimostrando di voler voltare pagina La stessa Monia ha ammesso di essere stata poco prudente, ma ha sottolineato che la sua forza principale sono le sue figlie Ha ribadito che nessuna donna deve giustificare la violenza da parte di un uomo, di qualsiasi tipo essa sia Monia ha ringraziato il sostegno ricevuto e ha sottolineato che sta imparando dagli errori, crescendo più forte Dal video degli episodi violenti, si è visto che anche lei ha rischiato di farsi male quella sera, quando Josh l'ha spinta Le giustificazioni dell'uomo non sono state accettate da tutti, compreso il giornalista Parpiglia In conclusione, Monia ha preso una decisione coraggiosa e ha ricevuto il sostegno di molte persone È importante condannare la violenza in ogni sua forma e apprezzare chi ha il coraggio di allontanarsi da situazioni dannose Speriamo che Monia possa continuare il suo percorso con serenità e determinazione A presto con nuovi aggiornamenti